I dottori l'hanno guarita, ma prima, ricordi le sue braccia e le gambe, camminavano in modo buffo, diciamo un po' piegata. Pensavo che pure perché sono cresciute in una battaglia. E io riguardo le mani, ha mai avuto difficoltà a cucire o ad abbandonarsi la camionetta? No. Mamma mia, le mani, mi tremavano, come se n'essi freddo. Ma non era freddo, non ho mai capito perché. Le capitava di tremare, come se n'essi freddo. Somministrate le potele. Adesso vogliamo un po' di carne, insomma. Grazie. 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 Grazie.